Buonasera e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione di Icaro Tg, i titoli principali dell'edizione di oggi. Terribile scontro questa mattina sulla consolare per San Marino tra una Fiat Punto di ieri a un furgone, al Bufalini il conducente dell'auto strada chiusa un'ora per mettere in sicurezza l'impianto a metano. TRC, il 5 Stelle continua la campagna, oggi il tour sul tracciato con i parlamentari e Camporesi annuncia chiederemo di nuovo l'intervento della magistratura sugli espropri. Oggi era piena la chiesa della risurrezione a Rimini per l'ultimo saluto a Massimo Tamburini, fondatore della Bimota e firma di tante moto illustri. Cosa comporta il decreto economico-finanziario approvato ieri? Ne abbiamo parlato con un economista riminese. Vuoi ridurre i costi e migliorare l'efficienza della tua azienda? Affidati a Comitel e scopri i vantaggi dei nostri sistemi di comunicazione integrati www.comitel.net C'è stato un grave incidente questa mattina intorno alle 11 a Rimini sulla consolare per San Marino, all'altezza dell'incrocio con via della Gazella. Una Fiat Punto di Era si è scontrata con un furgone targato San Marino. Ad avere la peggio il conducente dell'utilitaria che è finita nel fosso che costeggia la carreggiata. L'uomo, un addetto della Multi Utility, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena. Dalle prime informazioni non pare in pericolo di vita. L'impatto è avvenuto sulla corsia in direzione Rimini ed è probabile sia stato causato dal mancato rispetto dei tempi del semaforo da parte di uno dei due mezzi. Immediato anche l'intervento dei vigili del fuoco per restare l'uomo e mettere in sicurezza l'automobile, che è dotata di impianto a metano, quindi poteva comportare anche alcuni pericoli. Per consentire le operazioni di soccorso in traffico verso Rimini, anche verso il casello della 14, è stato deviato per un'ora circa dagli agenti della Polizia Municipale su via della Gazella. Resta in carcere o pesante, come è soprannominato il 32 anni abruzzese, arrestato come terzo complice della tentata rapina dell'8 marzo scorso nei confronti di un medico riminese nel parcheggio del complesso Leon Battista Alberti a Rimini. Walter Calò era stato arrestato dai carabinieri dopo due settimane a Pescara, dove era fuggito per nascondersi a casa dei suoceri. Sarebbe stato proprio lui a puntare la pistola a giocattolo contro il medico, che in risposta aveva invece estratto la sua arma, vera e legalmente detenuta, sparando tre colpi in aria. Dopo l'interrogatorio di garanzia a Pescara, che ha confermato le sue responsabilità, il GIP di Rimini ha emesso l'ordinanza restrittiva eseguita oggi dai carabinieri. Per l'attentata rapina erano già stati arrestati Nicola Milani, 42enne riminese, e Gennaro Terracciano, 36enne napoletano. Non demorde il Movimento 5 Stelle di Rimini sulla questione degli espropri per il TRC, mentre è in corso dal pomeriggio l'iniziativa a lungo il tracciato con i 12 parlamentari del Movimento, sospesi in questi giorni, accompagnati dalla riminese Giulia Sarti. Questa mattina, alla nostra trasmissione Tempo Reale, il consigliere riminese Luigi Camporesi ha annunciato che sarà di nuovo chiesto l'intervento della magistratura. In particolare si parla del noto cantiere di Via Serra, a casa della famiglia Moretti. Riteniamo quell'abbattimento un abuso edilizio e quindi un reato penalmente perseguibile, ha detto Camporesi, ribadendo l'intenzione di chiedere il sequestro sia di quell'area che di altre aree che saranno oggetto di nuovi abusi edilizi. Per Camporesi dovrebbe essere il Cipe a esprimersi sulla validità del progetto attuale, oggetto di numerose modifiche rispetto a quello finanziato. Via Libra, ieri dal Governo al DEF, il documento economico finanziario, confermato il taglio del cuneo fiscale a partire da maggio, che in parte sarà finanziato dalla Spending Review. Ora la manovra deve passare al vaglio delle Camere. Ne abbiamo parlato con un economista riminese. Il Governo ieri ha varato il DEF, documento economico finanziario, e all'interno trovano conferma le misure promesse. Per i redditi fino a 25.000 euro lordi arrivano da maggio, 80 euro in più in busta paga e lo sgravio riguarda anche chi guadagna meno di 8.000 euro. Previsto a breve anche il taglio del 10% dell'IRAP che grava sulle imprese. Ma dove si troveranno i fondi per un piano da 10 miliardi? 4,5 arriveranno dalla Spending Review, chiusura del CNEL, tetto agli stipendi dei manager pubblici, 239 mila euro lordi, e poi sforbiciata agli enti inutili, privatizzazioni, aumento al 26% dell'aliquota sulle rendite finanziarie, colpite anche le banche con il raddoppio molto contestato dall'ABI, dal 12 al 26% del prelievo sulla rivalutazione delle quote possedute in Banca Italia. Un provvedimento che potrebbe però trovare resistenze, secondo l'economista Maurizio Mussoni, che ne riconosce i lati positivi. La spesa pubblica italiana è un ammontare enorme e ci sono sicuramente delle sacche di inefficienza. Di fatto il DEF non propone solo un taglio della spesa, ma propone di utilizzare il taglio della spesa per tagliare il cuneo fiscale, quindi per portare un beneficio nelle tasche delle persone. L'obiettivo non è un taglio di per sé, ma un taglio delle sacche inefficienti per cercare di destinare le risorse che così si ricavaranno ad un rilancio dell'economia, quindi di per sé l'iniziativa è lodevole. Speriamo che questa sia la volta buona in cui si passa dalle promesse ai fatti concreti. Fare una manovra come questa che può essere per certi aspetti anche molto impopolare sotto le elezioni non è una cosa semplice, per cui non scandalizziamoci se a fianco di provvedimenti che appaiono essere molto duri, come un taglio delle spese di 4,5 miliardi, si sentono altri provvedimenti che suonano un pochino da campagna elettorale. Detto questo, se questo governo non farà sul serio, saranno temo dolori per tutti, quindi non resta che augurarci che questo programma ambizioso venga partato avanti. Era gremita oggi pomeriggio la chiesa della risurrezione di Rimini per i funerali di Massimo Tamburini, fondatore della società Bimota e firma di tante moto di fama internazionale come designer. La messa è stata celebrata dal parroco Don Renzo Gradara. Vediamo. La chiesa della Grotta Rossa, zona nella quale viveva, lo ha accolto per l'ultimo saluto. Intorno a lui il calore della famiglia, della moglie Pasquina, dei figli Morena, Andrea, Simona, dei cinque nipoti e dei tanti amici e appassionati di moto. Massimo Tamburini, riminese, classe 1943, è stato il padre di alcune delle più belle moto del mondo. Oltre che alla società idrotermica Bimota, il suo nome è infatti legato alla storia di marchi come Ducati, Cagiva e M.V. Augusta. Si è spento dopo una lunga malattia nella notte tra venerdì e sabato, a 71 anni. L'amministrazione comunale, che due anni fa lo insignì del Sigismondo d'Oro, era presente con il gonfalone listato a lutto. Un grande artigiano recitava la motivazione del riconoscimento che ha saputo raccontare uno degli amori più grandi della gente di Romagna, i motori. Ha trasformato la sua passione nella concretezza di prodotti industriali che hanno segnato la storia del motociclismo. Fondato il centro di ricerche Cagiva di Val Dragone nel 92, lo ha diretto fino al 2008. Nel 1971, alla guida delle sue moto, c'era il campione del mondo Giacomo Agostini. Nei 35 anni di attività nel settore motociclistico, le moto progettate da Tamburini hanno vinto 18 titoli mondiali, 20 titoli italiani e diversi altri titoli internazionali. Sarà riproposto questa sera alle 21 su News Rimini TV canale 614 l'incontro che l'ex ministro Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio e Riminese onorario, ha tenuto lunedì sera alla chiesa di Sant'Agostino a Rimini. L'incontro dal titolo Vivere nell'ascolto ha chiuso il ciclo di quest'anno delle meditazioni quaresimali. Vediamo l'intervista a Riccardi. Come nasce la voglia di incontrare i poveri? Nasce da una grande domanda che è la domanda del 68 anni di cambiamento. Allora cambiare cosa? Cambiare un mondo borghese, un mondo ricco? Ma no, ci sono i poveri, i poveri attorno a Roma, le baracche e la scoperta di studenti del mondo delle baracche. I poveri ci hanno sempre accompagnato e non sono stati l'oggetto ma anche il soggetto della nostra esperienza. Lei questa sera ha detto che l'ascolto modella la postura del cristiano. Cosa significa? Io credo che l'ascolto della parola di Dio ci dà il cuore. Fa nascere in noi un cuore umano oltre che un cuore cristiano che ci permette di incontrare gli altri, che ci permette di vedere gli altri e non solo di vedere noi stessi. La scoperta del cuore, questa è la grande esperienza del cristiano in un mondo che ha perso tanto il cuore. Noi viviamo troppo senza cuore, ma quando è il cuore del cuore non voglio parlare di un organo fisico. Il cuore nella Bibbia è il centro della vita dell'uomo, è il luogo dove Dio parla, ma anche è un luogo che ci apre agli altri. Diceva un grande saggio il patriarca Atenagora, dobbiamo decentrarci perché uomini e donne centrati sul proprio io saranno sempre duri e chiusi e senza cuore. Ecco, che ruolo ha il credente oggi in questo mondo di crisi? In questo mondo di crisi, in questo mondo sfrangiato, in questo mondo conflittuale, le donne e gli uomini credenti possono essere gente di pace che tengono insieme il mondo più di quanto noi crediamo e sappiamo. L'intervista era di Loris Menghi. Le nostre notizie di tutto in 100 secondi. Il trasferimento a Rimini del test da missione a medicina che si è svolto ieri in fiera è costato alle casse dell'Università di Bologna circa 143.000 euro, di cui 13.000 per le spese di trasferta. Il costo, spiegano dall'Ateneo, è in linea con quanto speso l'anno scorso alla fiera di Bologna. Il test ha portato a Rimini 2.900 aspiranti medici, 440 i posti disponibili. Ieri pomeriggio sulla Marechiese a Pietracuta, una 43enne di San Leo ha urtato con la sua auto un ciclista di Cesenatico facendolo cadere a terra. La donna non si era fermata, ma grazie ad alcuni testimoni è stata rintracciata dai carabinieri che l'hanno denunciata per omissione di soccorso. Il ciclista se la caverà con alcuni giorni di prognosi. Sempre ieri in via Scacciano a Riccione, il conducente di un maxi scooter T-Max alla vista dei carabinieri è fuggito ignorando stop e semafori rossi. L'uomo, un 32enne padovano, è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale, denunciato per guida senza patente e sanzionato per le numerose infrazioni al codice della strada. È attivo a Bellaria e Giamarina il nuovo sistema di gestione Sosta Facile tramite cellulari, smartphone e tablet. L'applicazione principale riguarda il pagamento della sosta per gli stalli blu, ma anche la gestione dei pacchetti orari per la sosta. L'app è disponibile anche sul sito sostafacile.it. Il sottosegretario alle politiche agricole Giuseppe Castiglione, ieri, in occasione della consegna del mercato itico a Bellaria, ha annunciato di voler istituire a breve un tavolo tecnico operativo a livello ministeriale sulle problematiche della pesca, specie sulla richiesta di ripristinare una tolleranza del 10% sulla taglia del prodotto pescato. Soddisfatto l'onorevole Arlotti, che alcuni giorni fa in Parlamento da Castiglione non aveva avuto risposta in merito. Si sono conclusi ieri sera su Icaro TV i quarti di finale della campanella, il successo del liceo scientifico artistico Serpieri di Rimini sul liceo scientifico Ferrari di Cesenatico. Tra due settimane cominceranno poi le semifinali. Vediamo alcuni passaggi della trasmissione di ieri sera. Matematica. A cosa è uguale la tangente trigonometrica di un angolo X? Seno fratto coseno di X. Esatto. E con un punteggio di... Alessandro, Alessandro, Alessandro. Allora, ricordiamo che martedì prossimo... Noi ricordiamo che questa era l'ultima dei quarti di finale. E martedì prossimo... Martedì prossimo prendiamo una settimana di pausa per prepararci all'ultimo... all'ultima rush finale. Con le due semifinali che andranno in onda il 22, il 25 e il 29 aprile. E la grande finale del 6 maggio. La prossima, la prima semifinale, vedrà scontrarsi il Marconi contro il Voltafellini. Mentre la vincente di stasera... Si sfiderà con l'Einstein, il liceo scientifico Einstein, il 29. Puoi fare ancora una domanda? Siamo 15 a 25, ci sono 10 punti di stacco, abbiamo solo altre 9 domande, per cui è matematicamente impossibile riuscire a vincere la gara. Vince Sessieri! Ciao a tutti, grazie! Grazie a tutti, ci vediamo fra due settimane! E per noi è tutto, a seguire il meteo vi ricordo come sempre che ci trovate anche sulle frequenze di Radio Icaro e sul sito newsrimini.it Grazie per essere stati con noi dalla redazione, una buona serata! Grazie a tutti, grazie a tutti!